E da un evento insignificante può nascerne uno importante, come io che sono in orario per un cambio turno e il dottor Cox che è in ritardo. Dove diavolo è finito, Cox? Il suo turno è iniziato 40 minuti fa. Fa qualcosa per coprirlo. Devo imparare a suonare il banjo. Dannazione figliolo, mi ascolti o no? Sì signore. E comprare un banjo? E da un evento insignificante può nascerne uno importante, come io che faccio tardi per colpa della stretta di mano più lunga della storia. Salve, che mi sono perso? Prova a indovinare. Devo comprare un washboard a Turk.